Sono il CEO di Tips World Exchange. Stai guardando il mondo che estrae gratuitamente Tips Coin. Con oltre 500 nuovi membri che si uniscono ogni giorno e la piattaforma in rapida espansione. Questo è un miracolo. Credi in Dio? Se sì. Il video di oggi è un messaggio di Dio per renderti ricco. La mia vita precedente era Abramo. Prevedo tutti gli eventi principali che accadono nel mondo. Diffondo ogni giorno il messaggio di Dio al mondo che può renderti ricco. Vuoi diventare ricco? Iscriviti al mio canale. Attualmente sono un esperto finanziario. CEO di Tips Platform e CEO di Tips Coin Foundation. Tuttavia, la mia vita precedente era Abramo. Diffondo la mia conoscenza al mondo attraverso rivelazioni di Dio. Il denominatore comune di tutti gli dèi del mondo è l'amore. Non ci sono informazioni di contatto per Schemcoin Foundation. Tutte le mie informazioni sono divulgate su tutti i SNS e YouTube. Sei fortunato per celebrare il lancio di Tips Exchange. Il rendimento previsto è del 1,000%. L'obiettivo è DiaCoin. K DiaCoin è collegato alla moneta Tips di Tips World Exchange. Questa è una strategia di marca per offrire monete DIA al prezzo più basso per celebrare il lancio di Tips World Exchange. È una strategia di marketing per promuovere Tips World Exchange prevedendo un rendimento minimo dell'1,000%. Tips Exchange si espanderà in modo significativo come Binance. Il profitto operativo della commissione di trading di Tips World Exchange è il valore futuro di TPSCOIN. Acquista quanti più diamanti possibile. La tua ricchezza aumenterà di 10 volte. Quali sono le ultime notizie Bitcoin di oggi? La mia vita precedente è Abramo. Sono nato in Corea. Diffondo le notizie Bitcoin di Dio e il messaggio di Dio ogni giorno e ti rendo ricco in tutto il mondo. La mia situazione di mercato Bitcoin sarà esattamente giusta. È un mercato rialzista Bitcoin. Questa è la 27esima analisi Bitcoin del giorno. La mia previsione che salirà da 61.000 dollari a 6 dollari e 70 centesimi non è mai stata sbagliata. Raggiungerà 70.000 dollari in pochi giorni il 20 luglio. E la mia previsione salirà a 69.777 dollari e poi scenderà esattamente. Oggi, 3 agosto, saranno 63.400 dollari e oggi e domani scenderanno esattamente a 58.300 dollari. E saliranno da 58.300 dollari. La mia vita passata. Abram. Sta inviando un messaggio a coloro che credono in me. È un mercato rialzista. Ora, fai come ti dico. Questo è un messaggio da Dio a te. Dal Dio in cui credi. Sento la voce di Dio dal cielo e la diffondo in tutto il mondo. Se ti iscrivi e ascolti le mie parole. Puoi diventare ricco senza preoccuparti dei soldi. Sono nato coreano e diffondo il messaggio di amore e felicità attraverso la rivelazione di Dio a tutti coloro che incontro. Il mio nome coreano è Cha-Guan-Seong. Credi in Dio? Che tu creda in Dio. Gesù. Allah. Buddha o Sheikyam-Yuni. Il denominatore comune di tutti gli dei del mondo è l'amore. Sono un esperto finanziario. Ho incontrato Buddha. Gesù e Dio nei miei sogni negli ultimi 20 anni. Ogni giorno offro pasti gratuiti a 500 persone affamate tramite rivelazioni di Dio e del cielo. La storia del mio sogno e la storia del pasto gratuito sono state pubblicate in circa 300 romanzi su YouTube. Sono stato battezzato in Vaticano a Roma nel mio sogno e ho sentito molte voci dal cielo. Ho sentito la voce di Dio in cielo più di 20 volte e ho visto una moneta dal valore di 100 milioni di won in valuta mondiale. Ho visto Buddha e Sheikyam-Yuni in cielo 20 anni fa e ho iniziato a sognare Dio 15 anni fa. Ho estratto KDA coin gratuitamente per i coreani per 10 anni e in seguito ho investito la mia ricchezza personale per creare una piattaforma di mance per le persone in tutto il mondo che muoiono di fame e dormono per strada senza nemmeno 1 dollaro al giorno. KDA coin. Estratto gratuitamente dai coreani. E' stato in seguito unito a Tipscoin e rinominato come marchio globale e quotato come Tipscoin. Le persone in tutto il mondo estraggono Tipscoin gratuitamente. Tuttavia, è una moneta preziosa che i coreani estraggono per 200 dollari al mese. Sai perché il CEO della TipsKDA Coin Foundation dorme solo 4 ore al giorno e diffonde notizie al mondo? Il motivo per cui il CEO della fondazione siede su una sedia per 20 ore al giorno e diffonde notizie al mondo è la sincerità. Se la pubblicizzi e la vendi, è una moneta fraudolenta. Ma le monete vere sono armate della sincerità e dell'onestà del proprietario emittente. Gli investitori intelligenti e saggi lo sanno. Sono passati 30 giorni da quando la notizia su Tips si è diffusa in tutto il mondo il 1 luglio 2024. Persone in tutto il mondo hanno già acquistato 78 milioni di azioni per un valore di 0,0001 dollari e le restanti 13 milioni e 300 mila di azioni scompariranno presto. L'opportunità di acquistare al prezzo più basso scomparirà presto. Incontrare me è un messaggio di Dio. Eravamo una famiglia nella nostra vita passata. Lo scambio di KDA Coin e DigiFinex, dalla sua quotazione, è aumentato dell'1.200.000%, da un centesimo a 80 dollari, e attualmente è al suo prezzo più basso di 0,0001 dollari. E se superasse il prezzo più alto nell'analisi tecnica? Da 100 dollari a 80 milioni di dollari. Sei un eroe miracoloso. Sogna un miracolo. La piattaforma Tips KDA Coin è già stata recuperata acquistando il 99% della circolazione dalla fondazione. Il volume di scambi non riscosso è solo l'1% del volume di scambi totale. La fondazione ha acquistato tutto il 99% della circolazione e ti offre la possibilità di diventare ricco. 0,0001 dollari è il prezzo più basso che non può più scendere. Acquista KDA Coin al prezzo più basso sullo scambio DigiFinex. Se vuoi davvero diventare ricco, ricorda la mia storia. Innanzitutto, considera KDA Coin. Che è solo l'1% della circolazione. Come il prezzo più basso e sogna i suggerimenti futuri. Ti dirò come detenere un sacco di monete. Puoi detenere un sacco di monete Tips acquistando una certa quantità di monete KDA a un prezzo molto basso e scambiandole con monete Tips. La piattaforma Tips è stata creata per costruire un social network SNS globale, per aiutare tutte le persone povere del sud-est asiatico che muoiono di fame e non riescono a mangiare nemmeno 1 dollaro. Al giorno, quando è stata creata internet, gli operatori della piattaforma sfruttavano il tuo lavoro e non ti davano soldi in cambio. È arrivato il mondo della piattaforma Web3 che restituisce profitti ai contributori della piattaforma. TIPS W e B3 Com persegue un'etica aziendale che cresce con tutti i partecipanti in tutto il mondo che hanno aiutato l'azienda a crescere e distribuisce naturalmente una parte di tutti i profitti generati. Memmano che l'azienda cresce a vari partecipanti. Il valore futuro di 200 milioni di abbonati a Twitter acquisiti da Elon Musk è di 2.500 dollari a settimana. Estrai TPS COIN sulla piattaforma TIPS ogni settimana. Se TIPS si espande come Twitter. Il valore di una moneta TIPS estratta gratuitamente ogni giorno è di 2.500 dollari. Inoltre, se TIPS si espande come Twitter. Ogni giorno verranno generate entrate pubblicitarie. E questo sarà anche il tuo profitto. Con la rivoluzione tecnologica, chiunque nel mondo può ora stampare valuta su un'unica piattaforma. Indipendentemente dal paese. Credi in Dio? Il mondo creato dal Dio in cui credi è arrivato. La piattaforma TIPS è il mondo che il Dio in cui credi vuole creare. La filosofia di gestione di tipsweb3.com è quella di creare un mondo in cui tutti nel mondo possano sfuggire al dolore causato dal denaro. Diventare ricchi e vivere una vita felice. Se non hai Bitcoin. Emetti la tua valuta su tipsweb3.com ora. La persona che ha creato tipsweb3.com è un coreano di nome Chia Gwangseong. Ha creato tipsweb3.com con i suoi fondi personali e ha creato il mondo che Dio vuole in tutto il mondo. Il mondo che Dio vuole in tutto il mondo è amore. L'amore può cambiare il mondo. È il mondo che le persone che credono veramente in Dio vogliono. Ha creato l'unico modo per sfuggire alle catene della povertà. Tipsweb3.com applica regole giuste ed eque a tutti nel mondo. Offre pari opportunità sia ai ricchi che ai poveri. Ora puoi diventare ricco nel mondo della blockchain. Tipsweb3.com in futuro. Se il valore dell'azienda aumenta con l'amore e il supporto di tutti nel mondo, come Twitter X, Instagram, Telegram e Facebook, puoi vivere senza preoccuparti dei soldi. Preparati per un nuovo mondo su tipsweb3.com. Stampa denaro con il tuo cellulare. Rendilo tuo. Tipsweb3.com è un'azienda creata da Abram Gold che dà profitto agli utenti. Diffondi l'amore. È la volontà di Dio. Sii ricco.